Non ci sono problemi nel caso di emersione della donazione indiretta dall'atto ai fini della futura circolazione del bene perché è pur vero che i legittimari del donante, anche se in questo caso donante indiretto, possono agire in riduzione e quindi dimostrare con una sentenza di riduzione che quella donazione è andata a ledere la loro quota necessaria un domani quando si andrà ad aprire la successione del donante indiretto, ma la giurisprudenza ha dimostrato che gli legittimari non potranno esperire oltre che l'azione di riduzione anche l'azione di restituzione, cioè quella con cui si vanno a prendere l'immobile anche nel patrimonio del terzo a cui il donatario indiretto abbia nel frattempo rivenduto perché in sostanza, e ha una sua logica, diciamo che il legittimario può andare a pretendere di venirsi, diciamo di veder rientrare nel patrimonio del proprio defunto solo ciò che da quel patrimonio è materialmente uscito e se nella donazione indiretta è uscita solo la somma di danaro, solo la somma di danaro potranno pretendere di vedersi restituita, quindi l'immobile è salvo e la circolazione dell'immobile anch'essa è salva.